Al Messina non è bastato una volenterosa prestazione per strappare alla Reca il passaggio del turno nella Coppa Italia di Lega Pro. Il 2-0 siglato dalla Salernitana nel finale grazie al rigore trasformato da Calille dal colpo di testa sotto misura di Colombe e maturato al termine di un match equilibrato nel quale la squadra di Grassadonia nelle vesti di grande ex aveva creato anche i presupposti per mettere a segno il colpaccio. La sfida di ieri è stata l'occasione utile per vedere all'opera chi fin qui è stato impiegato meno, da Marina De Bode, da Bortoli al Croato Bielanovic a rientro dopo l'infortunio e subentrato nel corso della ripresa. Tra i pali positiva la prova di Lagomarsini riproposto dopo un periodo trascorso in Naftalina per far posta a Giuliano, divenuta adesso l'indiscusso titolare del ruolo. L'estremo difensore Scuola Genova ha negato nel primo tempo la marcatura a Bianchi. Il Messina non ha però avuto il necessario cinismo sotto rete, basti pensare alle due ghiotte occasioni capitate a Orlando e sciupate dall'attaccante e altro ex dell'incontro. La punizione per mano di una squadra che nonostante schierasse le seconde linee poteva contare su elementi del calibro di Ginestra, Mendicina e Munar raggiunte in chiusura di match, per effetto del rigore concesso a causa di un evidente fallo su Colombo. Episodio costato, incredibilmente, il Ross Ammarin, sebbene fosse stato Stefani l'autore dell'intervento. Dopo la trasformazione di Calilli, i giallorossi non hanno avuto nemmeno il tempo di reagire, subendo anche il raddoppio firmato da Colombo. Coppa avara di soddisfazioni dunque per il Messina, già eliminato in estate dalla Team Cup contro il Ponte d'Era. L'obiettivo torna ad essere puntato sul campionato, a cominciare dalla gara casalinga di domenica con il Foggia. Non ci sarà bucolo, fermato dal giudice sportivo dopo il rientro di Nigro. Il Messina spera di ricevere buone notizie dall'infermeria, anche sul conto di Enrico Pepe e Altobello.